Salve amici del Centro Meteo Italiano, ultimi aggiornamenti sull'evoluzione meteo di Pasqua e Pasquetta, che su diverse regioni potrebbero essere ancora da ombrelli aperti. Mal tempo che nella seconda parte della settimana alternerà gradualmente la presa sul Mediterraneo e ci sarà però un netto aumento delle temperature. Per il weekend di Pasqua ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano tempo sostanzialmente asciutto al centro-sud, mentre il nord potrebbe fare i conti ancora con l'instabilità. Attenzione invece per Pasqua, quando sia il modello GFS che l'europeo mostrano il transito di una perturbazione atlantica con piogge temporali soprattutto al centro nord. Ancora correnti occidentali nella prima parte di aprile con alternanza di fasi asciutte a qualche pioggia. Data l'incertezza seguite però tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.